Il pilota di Ciccoglione, American Motor Pavia 7 secondi e mezzo su 400 Rossa per Marco Ferrante Adesso attenzione Isabelle Bertè dalla Svizzera, la moglie di Jean-Luc Jacop su Tosram Egisto Milandri, il nonno di Cesena, la furia romana Riccardo Adorno su Corvetta da Torino Sentite il turbocompressore della Mustang Mauro 102 Con il numero 204 Paolo 201 Vincitore di Coppa Italia 2013 Vincitore del Maggiolino, il pilota di Italia Lascevo le chiamate Un bel turnout per Davide Ancora Reggio Papi, la colonna romana Il Maggiolino a cui dedichiamo un applauso del pubblico Unico Maggiolino in gara Da Roma Maggiolino in gara Da Roma, Maggiolino in Italy E con il numero 122 Con il sede sinistra Stefano Fornari da Parma Numero 628 Per Isnell Benoit della Francia Per Isnell Benoit con le fiamme dichiarato il nome a incestare i neger dalla Svizzera contro 617 per Cedrici Massè dalla Francia la Svizzera contro 617 per Cedrici Massè la Svizzera contro 617 Grazie Grazie